Avevi messo in conto che Salvini ti avrebbe ripostato? Assolutamente no, anche perché pensavo che la ministro avesse altri oneri. Ma altre cose da fare, ma sai Salvini vede tutto, gli segnalano tutto e quindi... Trova il tempo per tutto. Trova il tempo per tutto, ma quindi tu non te l'aspettavi. E come ti sei sentita dopo che, appunto, oltre a Salvini è arrivata la solita pioggia di insulti, di attacchi? Allora, non posso dirmi esattamente preoccupata, ho spaventata perché comunque... Anche minacce, hai ricevuto anche minacce? Sì, sì, sì. Ecco. Oltre agli attacchi comunque ho ricevuto anche moltissima solidarietà, moltissimo affetto, quindi che sicuramente è la parte più importante. Certo è che mi ha fatto molto sanire il fatto che nessuno nei commenti, neanche meno il ministro, si sia in qualche modo occupato del fatto che i fascisti, e i salviniano erano due aggettivi messi in correlazione. Nessuno ha dato segni di stranezza riguardo a questa cosa. Cioè, tu vuoi dire quasi che... Quindi danno per scontato che Salvini è fascista, questo ci stai dicendo? Eh, ma comunque nessuno l'ha considerato una stranezza o qualcosa che andava un attimo sottolineato. Anzi, in moltissimi dei commenti le persone rivendicano il loro essere fascista con orgoglio. Quindi c'è una gravità della situazione. Nei messaggi di solidarietà che hai ricevuto, ce ne sono anche di leader politici, magari di sinistra, eccetera, che ti hanno voluto far sentire la loro vicinanza? Al momento che io sappia no, però Cecilia Strada ha invitato un bellissimo Stato. Ho capito. E anche da maschi? Un'onore gigante. Hai avuto anche solidarietà da maschi? Sì, tantissima, tantissima. Meno male, qualche maschietto per bene è ancora rimasto. E gli insulti invece sono più femminili, in realtà. Ah, ecco, vedi, anche questa è un'altra cosa che fa riflettere. Cioè, gli insulti come gli insulti femminili? Soprattutto le donne ti hanno insultato. Sì, sì. Vedi? Purtroppo poi le donne hanno poca solidarietà tra di loro. Bisogna dirlo, ogni tanto capita anche questo. Si è visto anche col Me Too.